Ci tenevi anche perché insomma anche in società ha un problema che tu usciti fuori una bella prestazione. Ci tenevo a far bene uno perché per la squadra dopo la brutta sconfitta della Spezia e poi perché la prima volta che mi ripropone titolare dopo San Monifacio dopo la partita del campionato qui in casa della San Monifacese quindi era importante fare bene sia per il gruppo che per me stesso. Racconta un po' il gol. Il gol? Non arrivavo di nuovo. Varezzano, Coppa Italia, Palo e tutto. Invece finalmente oggi prima di testa è andata fuori. Poi un paio di situazioni finalmente alla fine. Davanti alla porta dovevo fare gol. La squadra si è un po' ritrovata insomma. Sì, sì. Ti ripeto oggi era importante fare bene. Dovevamo reagire dopo quella sconfitta. Quindi era d'obbligo fare questo. Era un dovere che ci abbiamo fatto. Io devo fare una dedica. Continuo. Mi è venuto a mancare un amico lunedì. Questo gol è venuto a lui. Faccio le condiglianze alla famiglia. C'è un momento come si chiama il nome di Mattesi? Emanuele. Va tutto a lui e le condiglianze alla famiglia. Dato che non posso andare qui. Grazie. Ricordati.